Ciao a tutti e benvenuti che stai in play, è rimasto che ho cacciato un gravios e mi ha cominciato, mi percebo Buonasera signorita, parto per un tour nel Monteproduccio E' un caro di servizio, carico i colpi, guardate che belle miei fill-in vestiti da Sonic, tanta roba Ancora, aumenta la resistenza, ricaccio prima Ragazzi di qua, vamos a i ballar E con la cash correggio E' un po' di potenti Pues lo, adesso... e' una volta E' un po' di potenza E' laanna E' laanna E' un po' di potenza 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 un culo che ti ammazzo andato ragazzi, te lo sei cercato ok non la mostra di qua se tutto come sono a perdere c'è già un relo plus che penso di rompere palle tra questi e vai ok via bene o male pensavo che già mi hanno perso le balle ma però spero che sia interessante non ma altri cong andate a scorreggiare a impuzzare da un'altra parte qua ci sono le boba fasteggiosissime cosmi c'è cosmi c'è minchia il sete sfa falla un interessante scarabèo scarabèo ecco lì la mombra del cazzo cazzo oh cazzo voglio andare haha via ho fottuto un'altra piatta piccola c'è no allora salto giù l'ampe qui no ho detto ventela ok anzi potremmo andare vietamente qua tanto poi ti da non c'è niente eh e sta calmi guarda va bene prego ecco quello lo lascia sopravvivere grazie la nostra grazie ok guardate ragazzi oh però guardate un po' che c'è che figata ma salve un po' di uccellacci del paradise sono tornate le cari finissimi allora canna cruda e adesso non mi serve allora topa che hai accorto? iolt sparo? sì cosmicita? sì topatricia erba? sì altalete? no scarabararo? sì il leso più quattro acquatico ok ok bene ragazzi questo è un livefix qui e ciao alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao